Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a migliori condizionatori portatili. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo Olympia Splendid. Questo condizionatore portatile è perfetto per raffreddare stanze di medie e grandi dimensioni. Ha una capacità di raffreddamento di 8000 BTU barra ora e utilizza gas refrigerante naturale R290 per un impatto minimo sul riscaldamento globale. È compatto e facile da spostare da una stanza all'altra e viene fornito con un display touch e un telecomando per una facile impostazione di tutte le funzioni. Questo condizionatore d'aria è ottimo per le persone che vogliono essere eco-friendly e rimanere al fresco allo stesso tempo. Se stai cercando un condizionatore d'aria che sia ecologico e potente. L'Aier è perfetto per te. Ha una capacità di raffreddamento di 8000 BTU barra ora, che lo rende perfetto per il raffreddamento di stanze medie e grandi. Inoltre, utilizza il gas refrigerante naturale R290, che ha un impatto minimo sul riscaldamento globale. Numero 4. Argo. Argo Relax Style è un condizionatore portatile con le seguenti caratteristiche classe energetica A, tre modalità, oscillazione automatica, timer digitale on barra off programmabile 24 ore e funzioni sleep. Questo modello può essere utilizzato in case o uffici. La macchina ha un comando incluso. Ha anche le ruote per un facile trasporto. Largo Relax Style ha una dimensione esterna di 590 x 755 x 865 mm e una dimensione interna di 246 x 548 x 714 mm. Pesa 41 kg. Largo Relax Style può essere acquistato dal negozio online al prezzo di 799,99 euro. Questo condizionatore è un'ottima scelta per le persone che cercano un modello ad alta efficienza energetica con molteplici funzioni. La macchina è facile da trasportare e ha un timer programmabile. È anche regolabile, il che lo rende adatto a diversi spazi. Tre gradi posto c'è Electrolux. Il condizionatore portatile di Electrolux è perfetto per mantenere fresca e confortevole qualsiasi stanza della tua casa. Con ChillFlex Pro puoi sempre impostare la temperatura perfetta e goderti un ambiente rilassante. Questo modello dispone anche di controlli elettronici e di una silenziosità fino a 64 dB. Inoltre, LEXP 26U338CW è dotato di un filtro della durata di 12 mesi, così puoi mantenere la tua casa fresca e confortevole tutto l'anno. Questo condizionatore è un'ottima scelta per le persone che cercano un modello ad alta efficienza energetica con molteplici funzioni. La macchina è facile da trasportare e ha un timer programmabile. Numero 2. Confe e il condizionatore. Il condizionatore d'aria portatile Confe è un'ottima soluzione per la casa o l'ufficio. Questo modello può essere usato efficacemente per raffreddare piccole stanze fino a 100 piedi quadrati. Il design elegante di questa unità la rende facile da spostare nella stanza secondo le necessità. La tecnologia brevettata di questo prodotto permette di far evaporare parte della condensa liquida, il che porta a un minore consumo di energia e a una maggiore durata dell'unità. Questa unità compatta è anche molto efficiente, fornendo fino a 5000 BTU barra H di potenza di raffreddamento. Il condizionatore d'aria portatile Confe è una grande scelta per le persone che vogliono un modo economico ed efficiente per raffreddare il loro spazio. Questa unità ha una varietà di caratteristiche che la rendono un buon valore, tra cui... Infine, il numero 1 della nostra lista, Ribimex. Questo estrattore di cenere di Ribimex è un prodotto di alta qualità realizzato in Italia. Ha un potente motore da 1000 W e un contenitore di 18L. Il tubo flessibile in metallo rivestito è intercambiabile e lavabile, e anche il filtro EPA e il prefiltro sono entrambi lavabili. Questo estrattore è perfetto per rimuovere la cenere e la fuligine dal vostro camino, stufa a legna o barbecue. Questo estrattore di cenere della Ribimex è un prodotto di alta qualità realizzato in Italia. Ha un potente motore da 1000 W e un contenitore da 18L. Il tubo di metallo rivestito è intercambiabile e lavabile, e anche il filtro EPA e il prefiltro sono entrambi lavabili. Questo estrattore è perfetto per rimuovere la cenere e la fuligine dal tuo camino, stufa a legna o barbecue. E sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.